Quando circa un anno fa a Limes decidemmo di produrre un numero piuttosto speciale dedicato all'Unione Sovietica non immaginavamo certo che l'uscita di questo numero avrebbe avuto modo di coincidere con una crisi così forte ed esplicita tra la Russia e l'Occidente, tra l'America e la Russia. Questa crisi serve anche per legare questo numero dedicato al passato che non passa, cioè all'Unione Sovietica, come qualcosa che è formalmente finita ma che di fatto fa sentire la sua presenza ancora oggi in un contesto di stretta attualità, cioè in un contesto in cui il mondo russo, la Russia, si sente minacciata vitalmente dall'Occidente e una parte almeno dell'Occidente, penso soprattutto all'Europa dell'Est, si sente direttamente minacciata dalla Russia. Questo ci permette di cogliere una delle molte continuità che in questo numero dedicato all'attualità dell'Unione Sovietica abbiamo indagato e cioè il fatto che puoi chiamarlo Unione Sovietica, puoi chiamarlo impero zarista, puoi chiamarla federazione russa, ma fondamentalmente quello spazio enorme coperto dal più grande Stato del mondo nel cuore dell'Eurasia resta e resterà finché ci sarà un impero, un impero con le sue logiche. Una delle logiche, forse la logica fondamentale dell'impero sovietico russo, o prima ancora zarista, è quella di disporre di uno spazio di sicurezza al suo fronte occidentale, cioè quello da dove nei secoli penetrarono polacchi, francesi, tedeschi, svedesi e quanti altri e che ancora oggi i russi sentono minacciato dalla presenza della Nato e da un'America che soprattutto in Ucraina vedono aggressiva. Questa è una delle indicazioni che noi sviluppiamo in questo numero dedicato all'attualità dell'Unione Sovietica.